Le eccellenze marchigiane sotto i riflettori dell'Expo. Una delegazione della regione Marche, guidata dal vicepresidente e assessore alle attività produttive Mirko Carloni, sarà presente a Dubai dal 21 al 26 febbraio con uno straordinario calendario di eventi delle imprese marchigiane. Un'occasione unica e ripetibile per rinnovare ancora una volta la già solida amicizia che lega le Marche a Dubai sin dal 2005, guardando però al futuro. Abbiamo fatto in modo di sfruttare Expo Dubai 2020 scegliendo la settimana dell'agricoltura e del cibo e abbiamo fatto anche un bando che prevede un criterio, quello della sussidiarietà, cioè abbiamo fatto presentare agli imprenditori dei progetti di business che gli interessavano a loro dentro quello scenario, non solo dentro l'Expo ma anche fuori dall'Expo. Quindi abbiamo previsto diverse iniziative che hanno partecipato a un bando, ripeto, si sono aggiudicati un contributo del 60%, noi abbiamo dato supporto tecnico, abbiamo fatto un'immagine coordinata con anche un'operazione di branding, con il logo Expo Dubai che noi abbiamo ripreso in un altro modo, abbiamo scritto Marche Land of Excellence. Terra dell'eccellenza è esattamente il sinonimo di bellezza perché noi viviamo le capacità dei nostri produttori, degli artigiani, degli agricoltori, di chi fa beni di precisione, fa mobili, fa fashion oppure produce il cibo, lo fa con l'eccellenza, col senso dell'eccellenza perché è contaminato dalla bellezza di questa regione. Sarà una grande opportunità, ha proseguito Carloni, che sfrutteremo con progetti e iniziative correlate da una sola immagine della regione e con un marchio con il quale appronteremo in tutti i mercati esteri. Quel marchio, Land of Excellence, sarà il marchio identificativo del nostro territorio. Purtroppo, troppo spesso, quando si è all'estero, specialmente nei teatri internazionali non europei, la regione Marche non è conosciuta e quindi noi abbiamo un problema identitario da risolvere in modo che i nostri produttori, quando vanno all'estero e dicono sono delle Marche, possano ricevere un beneficio perché viene percepito come un prodotto di alta qualità e di eccellenza. Dubai sarà anche l'occasione per fare sistema con le università, le imprese e la Camera di Commercio. Saranno due, ha concluso poi l'assessore, le operazioni che ci aspettano. Un'edì mattina sarà fatto un accordo con le massime autorità emiratine che si occupano di business, con cui creeremo un memorandum d'intesa per fare azioni future di scambio e di rafforzamento su quel teatro economico. Come sapete Dubai non è soltanto una piazza importante ma è un hub per tutto il Medio Oriente, quindi è fondamentale che le Marche si qualificano e riprendano un'antica amicizia che c'era e che è stata interrotta negli ultimi anni. L'altra operazione viene presentato per la prima volta il distretto del biologico marchigiano ed è un grande valore aggiunto. Avevamo promesso a chi ha aderito a quel distretto del biologico che avremmo sfruttato, l'Expo Dubai, per dargli visibilità e così verrà fatto sempre lunedì mattina all'interno del padiglione Italia dell'Expo Dubai.